Torno operativo a partire da oggi il servizio di salvataggio in mare sulle spiagge sassaresi. I bagnini della Vosma, l'organizzazione di volontariato di protezione civile, si sono aggiudicati il servizio fino al 15 settembre nei litorali di Portoferro, Argentiera, Portopalmas e Platamona. Si occuperanno di garantire un soccorso in mare e di informare i bagnanti sulla normativa in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus. L'operato degli assistenti bagnanti parte dalle 8.30 fino alle 19.30. Le nuove direttive prevedono che per gli ombrelloni di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi è necessaria una distanza di almeno 3,5 metri, mentre Asciugamani e Sdraio dovranno essere posizionati ad un metro e mezzo. Le disposizioni sono indicate nei cartelloni collocati agli ingressi di tutte le spiagge del Sassarese, oltre che in italiano anche in lingua inglese. Inoltre è evitato creare assembramenti o giochi nei quali non è possibile mantenere le dovute distanze interpersonali. I lidi sono dotati di una torretta avvistamento e provvisti dell'occupaggiamento di prima assistenza.